Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa sesta controlla della serie della mappa Vichelberg, io sono nel comune di Sebastiano come al solito, stavamo registrando un po' prima del solito, infatti sono quasi un po'... che sono, sono tipo dei due, vabbè, è similare anche il gioco, benissimo, buongiorno a tutti, ecco, saluto a tutti, andremo che mi cavo le cuffie che rompono solo le scatole, bene, nella scorsa puntata ci siamo lasciati ancora con le trebbiature del camo 53, oggi andremo a trebbiare, tre trebbià, faccio io va, mi servirebbe un carro però, no, non vado a prendere del carro, lo vado a prendere io qua con il biroccetto, quel biroccetto, allora ragazzi ho cambiato il microfono, sto usando quello della webcam perché quell'altro è partito da quante pacche che ha preso, sì che è nuovo, ce l'ho qua vicino, il trashed piccolino, lo sto usando quello della webcam della Microsoft, Microsoft non muore mai, qua Sebastiano sta finendo di raccogliere la paglia, ce lo mettiamo qua, il nostro piccoletto, e se andiamo a prendere la nostra amata, Massi Ferguson, dai che mi lagga quindi vedo il gioco, non so che cazzo abbia, non so cosa abbia, veramente, sicuramente il microfono vecchio, facciamo un sacco di fluscii, oggi non so che cazzo a questo gioco, non so che cazzo ha, cazzano concludere più che altro, veramente, guarda che roba, ma sono la partita spaduolo non lo vediamo va bene dai continuiamo a trebbiare va ok andiamo a trebbiare accendiamo gli ampeggianti finito di raccogliere la paglia ha finito di raccogliere la paglia bene ok semina pure oggi andiamo a finire di trebbiare i campi e anche a seminarli cosa non so cosa cosa facciamo qua colza ce ne abbiamo abbastanza con questo campo soia no dai fai soia va è quella che abbiamo una di tutti ok vediamo se mi va il bug aspetta vediamo se mi va il bug dai che va e vai il bug funziona il bug funziona anche in multi a posto mi sono scontrati in realtà le spacca da tutti ma passiamo su farming e non succede niente benissimo già il 60% quasi la speed farm produce davvero molto abbiamo solo 76.000 euro quindi finiti i campi qua mi sa che andremo a vendere qualcosa vediamo se ci sono prezzi buoni adesso li abbiamo finiti soia contro si dai 1700 euro dopo andremo a vendere un carro di colza la serie di colza di soia che ho raccolto ah si la paglia bene ho fatto money arrivano i money qui sono sicuri che ho la speed farm il minimo mi pare che si produca davvero troppo per la speed farm il minimo vediamo il nostro biloceto qua il nostro piccolo Massey ragazzi il do di sistemare quel problema che mi lagga il gioco non so cosa c'è veramente guardate non so se si vede in video ma fa tipo come scatti vabbè che programma che usa per il G6 fa scatti anche quello però vabbè c'è bastione infarn ok ferma fermo ma che ferma vediamo se mettiamo solo una fertilizzazione obbligatoria e uno guardo eh no aspetta ok e uno guarda io posso uno io meso ok dai anche perfetto e sono dopo è un casino abbiamo il tuo aperto finché siamo qua sopra che male non va che male non fa dai vai dentro marcia altra vita scavola di cui vengono rischiai e tenendo una bella trevia intanto vorrei comprare vediamo cosa ci servirebbe eh dobbiamo iniziare con gli animali iniziere con le pecore inizierei sì con le pecore che sono quelli che chiedono meno l'erba ce l'abbiamo già abbiamo già un po' di balle fortuna che non le abbiamo vendute all'inizio se no dobbiamo prendere anche le falcettrici però all'inizio ci bastano quelle balle che abbiamo intanto qua con il bug si va più veloci inizierei da perché sono lontani dalla farm adesso un po' lontanissi un pochino qua facciamo di goriente in campo avanti se mi chiedo perché le tre bevano così piani veramente mi chiedo perché vanno così piani così è meglio dai 20 all'ora meglio intorno a cabine funziona meglio il bug solo che mi laghi in intorno a cabine vabbè no sono piente efficiente eh se 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 frena 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 insomma il 56% per la prima cosa io prenderei in un trattorino più potente vanno dai qua il biloccetto qua e vanno dai vediamo cosa vediamo 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 no questi sono già troppo potenti dai vanno dai un bel fast track 3000 va quando sai il caricatore e a noi sarà quel caricatore anzi no aspetta questo quanto ci costerebbe a volte larghi ci costerebbe 184.000 euro eh vabbè ragazzi vediamo che arrivate a quota 184.000 euro qua intanto fa una fatica vestiare tirare questo biloccetto qua questo biloccetto qua sebastiano sta lavorando quindi tutto a posto frena ah sto massei sto massei massa piccolo sto massei le massa piccolo facciamoci come un'era dalla tava distribuisce meglio è vuota la che è quasi vuota ok 26.000 e 1-1-1-1 dai non ce la fa non ce la fa da qua di di scolza di colza ce ne abbiamo abbastanza vediamo che questo campo se arriviamo a più di 100.000 litri vendiamo qualcosa perché non ci sta nei silos all'inizio ci stanno solo 100.000 litri di roba dopo dobbiamo prendere gli ampliamenti ma ragazzi abbiamo messo puntato un buon time lapse per la gioia di alcuni che vi serve non ci stanno solo Grazie a tutti 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 Grazie a tutti